Punto di rottura, l'informazione che spacca con Rush Bentornati ad una nuova puntata di Punto di rottura sul canale 14 di Radio Roma Television Io sono Rush e come al solito è un piacere ritrovarvi qua a quest'ora alle 12 Lo sapete che ogni giorno per chi ormai mi segue da qualche mese a questa parte Il programma è in diretta, inizia proprio a quest'ora da lunedì al venerdì Poi c'è la replica, ma io la replica la mandiamo e la mando sempre alle 19 Questo perché è un momento un po' più aperitif e ci sta Allora ancora un buongiorno alle persone che in realtà in questo momento ci stanno seguendo E anche a chi questa mattina ha seguito il programma in diretta radio di Breaking Bad Già sa su per giù, se già ha capito come sono fatto Quali saranno poi i titoli di questa nostra puntata insieme Tra poco li vediamo, volevo ancora ringraziare le persone che comunque si fanno sempre sentire attraverso i social E continuate a seguirci anche su Instagram e su TikTok Ci trovate proprio così con Radio Roma Seguite anche il sito che è radioroma.it dove trovate tutte le interviste, le repliche anche di questo programma E di Breaking Bad, di tutti i programmi che fanno parte del palinzesto radio televisivo E anche ovviamente poi gli estratti E ieri ne abbiamo pubblicato un altro per quanto riguarda il lavoro quello lì, no? Il lavoro quello lì, avete ben capito? Quello del pulcino, no? Indovinare il sesso Andate praticamente sul sito di radioroma.it e trovate anche questo estratto Prima di iniziare però, lo sapete sempre, prima di farvi vedere le pagine del giornale, gli articoli C'è sempre una cosa da fare perché queste pagine non si mostrano da soli Questi articoli non si mostrano da soli C'è sempre dietro la telecamera l'aiuto della regia di Matteo Lupini, buongiorno Buongiorno signor Rastro Buongiorno, buongiorno, siamo pronti e carichi anche per oggi, no? Come al solito, signor Rastro Abbiamo fatto il pieno di notizie, vero? Certamente E allora, io direi di partire subito Vai con la prima pagina Si parte in questo modo, signori miei Partiamo direttamente dal Ma cosa partiamo stamattina? Da Leggo? Ok, partiamo da Leggo Allora, prima pagina dove praticamente trovate un bel po' di informazione Questa è un po' come è sicuro Al di là di quello che ovviamente continua ad esserci Di Giulia, che non faccio finta di nulla, assolutamente no 22 minuti di agonia Purtroppo più si va avanti e più si scoprono cose macabre Si scoprono fatti macabri, si scoprono situazioni che forse è meglio non scoprire Però lo sapete che non faccio mai silenzio Ho creato anche insieme all'aiuto di Matteo Lupini Un estratto che abbiamo pubblicato su reddiroma.it Andatelo, trovate con basta femminicidi Probabilmente questa settimana ci sarà anche un reel che parlerà di ciò Quindi vi teniamo sempre informati anche sul nostro pensiero Sulla nostra opinione, su quello che ci passa per la testa Quindi anche questa volta non mi volto dall'altra parte Ma vi dico che Giulia, 22 minuti di agonia È stata veramente una situazione brutta, brutta, brutta Turetta molto feroce Lo dicono anche le autorità Passiamo ad un altro titolo E vorrei un po' concentrarmi su questa cosa Cellulare, velocità e cinture Bocciate gli italiani al volante Io non so se parecchi di voi magari si sentono chiamati in causa su questa cosa Perché siamo tutti bravi a giudicare Non si usa il telefono cellulare Il cellulare quando si guida Non si mettono Si devono mettere sempre le cinture Bisogna sempre mettere le frecce Bisogna sempre rispettare i limiti di velocità Invece poi dopo a parlare Siamo tutti bravi ma la multa a casa arriva sempre Ti fermano e rimani sempre così O rischi di fare degli incidenti Perché sei con il telefonino tra le dita Questo succede sempre Quindi sono sicuro che dall'altra parte Ci sono persone che almeno una volta nella vita Una stupidaggine del genere l'hanno fatta Parleremo poi anche di altri titoli Come per esempio Mostriamo un attimo la prima pagina del messaggero Qua ci sono un paio di titoli interessanti C'è uno che mi ha colpito parecchio Che riguarda Roma Riguarda Roma perché? Perché intelligenza artificiale Lo sapete che sono un po' di giorni a questa parte Che troviamo sui social video fatti fake Video fatti da conduttori radio televisivi Video fatti da imprenditori Che non sono poi reali E per correre un pochino ai ripari La capitale ha dato un bello smacco Secondo me all'Unione Europea E ha creato qualcosa Sta creando qualcosa con l'aiuto dei fondi Per frenare un po' anche il cyber Le persone che fondamentalmente poi Entrano, fanno le frodi Cercherò di spiegarvelo nel miglior modo possibile Poi se torniamo un attimo sul leggo Invece a Matteo C'è un altro articolo bello Che riguarda sempre la capitale Il visconti liceo al top Lo sapete che Si stirano sempre classifiche Dei licei più buoni Le scuole più buone Anche perché Perché ha un figlio Lo sa Si tende sempre a cercare il meglio E a fare sì che la scelta della scuola Sia poi correlata ad un futuro Ci si investono anche soldi e tempo per questo E qui il visconti Si è classificato bene Poi parleremo anche di questo ovviamente Nel nostro programma In questo punto di rottura Ci sono altre tematiche Altri argomenti Poi li vedremo ovviamente insieme Io direi che possiamo iniziare a confrontarci un pochino Possiamo iniziare a dire la nostra Fatelo anche voi al 320-239-3833 Questo è il numero che dovete utilizzare Per parlare con me su Whatsapp O per parlare anche con la signora Mosca Che oggi ha deciso di condurre questo punto di rottura con me Chiedo l'aiuto della regia Matteo Lupini Posso condurre insieme alla Mosca? Certamente Anzi potresti dire ogni tanto Zitti e Mosca Allora un plauso ovviamente Alla regia per questo motivo Fa la regia di Matteo Lupini Questa me la tengo Allora Io inizierei subito Se sei d'accordo con il primo titolo Di questa giornata insieme Andiamo direttamente da Leggo Andiamo da Leggo Andiamo da Leggo E voglio concentrarmi su questa cosa qua Il rapporto Anas È stato fatto da loro Con le infrazioni più frequenti Chi ha seguito il mio programma di Breaking Bad Ieri in radio Sa bene che ho parlato di multe Ho parlato di cose che in realtà si fanno E non si fanno quando c'è la guida Sembra che qualcuno mi abbia Praticamente ascoltato E oggi hanno pubblicato questo articolo Quindi siamo felici di questo Se così è stato Cellulare Velocità e cinture E bocciati gli italiani al volante Scrivono che il 10% degli italiani Mentre è al volante Gira un video con il telefono cellulare Una ricerca che è stata commissionata da Anas Dipinge i nostri automobilisti Come i più spericolati d'Europa Poi c'è anche il problema con la distanza di sicurezza Le frecce e limiti di velocità Sono praticamente Sconosciuti un po' per noi italiani Torniamo in studio E affrontiamo un attimo questa cosa Ma sai Matteo che qua ci vuole una telecamera Che è la 3 Dammi la 3, dammi la 3 Eccola qua la 3 Questa ci vuole Perché quando io parlo di queste cose Devo entrare un po' nel vivo delle case Cioè nel senso Devo entrare nelle case di tutti gli italiani Che ci danno modo di poter chiacchierare E dire la nostra opinione Ah una cosa importante Vi ricordo che se avete una smart tv Comunque una tv collegata ad internet Potete seguirci anche sul 222 Che è il canale nazionale Quindi praticamente in tutta Italia Tornando a parlare di questa cosa Legata un po' alle cinture di sicurezza Ai telefoni cellulari Torno a dire che secondo me Gran parte delle persone Che stanno guardando la televisione In questo momento Si sentono colpevoli Allora Partiamo un attimo Dalle cinture di sicurezza Le cinture di sicurezza Sono ormai fondamentali da molti anni Negli anni 80 Dai Nel 90 Che sia 2000 Si guidava praticamente senza cinture Ed era una cosa normale Un po' come andare in moto In motorino senza casco Poi è diventato obbligatorio E adesso è impossibile non utilizzarlo Ma non perché uno vuole fare un po' Diciamo Il matto della situazione Proprio perché ormai è diventata routine Io non so voi Ma io per esempio Quando salgo in macchina O salgo in moto Io se non utilizzo il casco in moto O la cintura di sicurezza Se è in macchina Non riesco a guidare Cioè io senza cintura di sicurezza Non ce la faccio E non sto parlando del fatto Che comunque senti Il pipipipipipipi Dell'alar Non è quello Dico che ormai siamo abituati Ed è giusto che sia così Ci sono molti incidenti Tanti incidenti sulle strade italiane Tanti incidenti sulle strade romane Considerate che abbiamo un tasso altissimo Anche per esempio di persone che sono state investite E lo abbiamo visto su tutti i giornali Report su report Quindi dovremmo cercare anche di guardare avanti Ed evitare di continuare a fare sta roba Ma detto questo Tornando alla cintura di sicurezza Stamattina ne ho parlato E me l'hanno commentata questa news Con un messaggio che secondo me Da una parte potrebbe comunque giustificare Chi non indossa cinture di sicurezza Non si è mai giustificati perché c'è l'obbligo Ma chi tende a non farlo Anche per i piccoli spostamenti Mi ha scritto Rush è tutto vero È tutto obbligatorio Ed è giusto che le cinture vengano indossate Ma a volte noi soffriamo con le cinture di sicurezza Perché sembra come se non sono a norma Cioè se danno fastidio Non sono comode per anche le lunghe tratte Effettivamente ci sono case automobilistiche Adesso non voglio citare il nome Magari possono essere un po' più cheap Queste case che fondamentalmente Utilizzano dei materiali Non dico proprio scadenti Non voglio essere così aggressivo e cattivo Però dei materiali che danno noia e fastidio Io a volte sono salito su alcune autovetture Su alcuni automobili E la cintura di sicurezza Davvero uno scherzo Sembra come una tagliola Praticamente Cioè se ce l'hai a questa altezza Per quanto tu possa abbassare Il cursore che hai il laterale Che ti dà l'altezza della cinta Non fa niente È tipo come un Lacio omostatico praticamente Ed è vero E quindi dico sì Ha ragione anche l'ascoltatore Il telespettatore che ci ha scritto su questo articolo Su questo argomento Ha ragione Perché fondamentalmente ci sono alcune autovetture Che sono veramente costruite male Allora dico magari su queste cose Bisognerebbe essere un po' più attenti Onde evitare che poi le persone magari per scomodità Perché alla fine veramente ci sono alcune cinture di sicurezza Che sono davvero scomode Non le indossino E torno a dire E qua non nego E non nascondo il mio pensiero Dovete assolutamente indossare le cinture di sicurezza Ok è una cosa fondamentale ed importante Telefono cellulare Vogliamo parlare di questo Quanti di voi in questo momento che sono davanti al televisore Ci stanno seguendo sui nostri portali Su radioroma.it Dappertutto Quante persone si sentono in colpa di avere Almeno una volta nella vita guidato con il telefono tra le mani O aver rischiato anche un incidente Per guardare una notifica sul telefono cellulare Questo è un argomento molto importante Che merita ovviamente spazio e tempo Quindi vi consiglio di non toccare nulla Rimanete lì perché tra pochissimo Partiamo con la seconda parte di punto di rottura Torniamo su questo argomento Poi ce ne andiamo al Bisconti Alle nostre scuole All'IA, l'intelligenza artificiale E due o tre altre curiosità Se riesco a dirle perché il tempo è sempre quello Chi è? Un po' corto Io prendo la mosca Faccio due chiacchierate con lei E torno tra pochissimo Aspettatemi qua Punto di rottura L'informazione che spacca Con Rush Torniamo in studio per la seconda parte di punto di rottura Ancora buon pranzo O aperitivo dipende quando state guardando questo programma Io sono Rush Per i nuovi Per quelli che hanno fatto zapping È sempre un piacere ovviamente Stringervi la mano Anche a livello televisivo Allora sono tanti gli argomenti Che io ogni giorno porto un po' qui nel vivo del programma Abbiamo iniziato a parlare di questi Di questo report ANANS E arriviamo ai telefoni cellulari Se vi siete persi la prima parte Non posso ripetere tutto Al volo Il tempo è quello che è Mandate sul sito di RadioRoma.it Sezione repliche E trovate ovviamente poi La puntata con gli estratti correlati Poi vi divertite un po' A fare zapping sul nostro sito Ci sono un sacco di cose Anche tanti articoli interessanti Scritti dai nostri giornalisti Adesso però Torniamo a parlare Del discorso legato al telefono cellulare Quanti di voi E siate onesti Quanti di voi Utilizzano il telefono cellulare Costantemente quando guidano Anche quando non si può In realtà non si può mai E nemmeno quando si ha il semaforo Se vogliamo essere proprio Eligi al dovere Quanti di voi hanno rischiato Un incidente con il telefono cellulare Questo fa parte del report E ci classificano in Europa Come i peggiori automobilisti Sotto questo punto di vista Ricordo È un report ANANS Quindi non è una cosa Che è presa così tanto per Problema del telefono cellulare Che poi porta a multe E a proposito di multe Ce n'è una grande grande Vogliamo un attimo far vedere L'articolo di Italia Sera Di questo sito Che è super interessante ZTL da incubo coppia Riceve 100 multe Salasso da 13.000 euro Colpa del navigatore Quanti hanno dato la colpa Al navigatore Perché sono capitati Purtroppo in una zona ZTL Ovvero una zona Traffico limitato Quindi non accessibile a tutti Se non grazie ad un permesso Ve la faccio breve Praticamente hanno preso Questo mega montone Perché hanno accompagnato Il figlio a scuola Più di 100 volte È normale Pensavano di essere Nella ragione Invece no Il navigatore Gli faceva passare In una strada Sotto ZTL Quindi sotto il controllo Della zona del traffico Limitato E hanno beccato Questa montona Poi colpa del navigatore Non colpa del navigatore Raga Quando ci sono multe Di questo tipo Si paga e basta Perché è difficile Toglierle Come quel ragazzo Che è arrivato A 150 mila euro Di multe Ragazzi 150 mila euro Di multe Gli hanno sequestrato Una macchina Un'altra storia Questa bella racconto Veloce così Sempre per un problema Legato all'ingresso ZTL Entrava 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 E arrivato A 150 mila euro Di multe Autosequestrata Ovviamente Dai vigili che sia Ed è tornata Anche la mosca Perché è curiosa Quindi Zitti e mosca Come Come suggerisce La salutiamo Il nostro Matteo In regia Ma Noi conduciamo Anche con la mosca Che è più curiosa Quindi la teniamo qua Ho la valletta mosca Posso avere la valletta mosca Matteo? Anche se è cieca Così fai mosca cieca Mi raccomando Non guardare Allora Detto ciò Occhio alla situazione Legata alle multe Perché siamo messi Veramente male Adesso switchiamo Dobbiamo andare a fare Complimenti a Roma Per due cose Riapriamo un attimo Il messaggero Due cose Molto importanti La prima È che Con i fondi Ed altro Roma Sta dando Un bello smacco All'unione europea Perché raga Sta per Tirare fuori Un bollino Antifrode Leggete qua Intelligenza artificiale Norme italiane In arrivo fondi E bollino antifrode Sono usciti fuori Praticamente I soldi Per l'intelligenza artificiale Made in Italy Una sorta di bollino antifrode Perché? Perché bisogna Saper riconoscere E valutare Tutti i contenuti Che poi vengono messi Sul web E lì c'è un problema Perché spesso e volentieri Vediamo attori Vediamo personaggi Notti del mondo Dello spettacolo Vediamo volti Che magari conosciamo Perché sono Non so Persone anche a noi vicine Che parlano di qualcosa Ma in realtà Non sono loro Perché è l'intelligenza artificiale Che gli sta dando Voce in capitolo Purtroppo Purtroppo Al di là della scritta Frode Frode piccolino Sotto in basso a destra Molte persone a volte Non se ne accorgono E li ascoltano E è pericoloso Perché magari uno dice Hai sentito che ha detto quello Hai sentito che ha detto quell'altro E invece poi Un video fake Questa è una potenza Mediatica Incredibile Quindi bisogna fare attenzione Perciò Roma Ha fatto un passo avanti Io sono felice di questo Ma l'Italia a prescindere Perché ha tirato fuori Questa possibilità Quindi con sommensioni Con soldoni Del bollino Antifrode Che verrà messo Proprio per salvaguardare Ovviamente anche i cybercrimini Quelle persone che fondamentalmente Utilizzano l'immagine Di un'altra persona Per fregare E quindi Molto bene Soprattutto sono contento Che sia una cosa romana Che sia una cosa Che viene un po' Dalla nostra città Come romana E anche La scuola Il liceo Visconti Vi faccio vedere Questo articolo Si fa sempre Si fa sempre Una classifica Tra le scuole Che potrebbero comunque Andare bene Per i nostri figli Leggiamo qua Anche per le scuole A tempo di pagelle Arrivano i voti Per le superiori Dal liceo Visconti Di Roma Al Casiraghi Di Milano Istituti al top Delle classifiche Nelle rispettive città Questa è una cosa Molto bella Importante Perché spesso Noi puntiamo Un po' Il dito Con la scuola italiana Perché Bisognerebbe fare A volte i genitori Diventano tutti Insegnanti No c'è No era meglio così No era meglio di qua No era meglio di là Effettivamente Questo c'è da dire Abbiamo delle grandi scuole E delle grandi Anche Università E poi magari Ci arriviamo Per quanto riguarda Questo liceo Bene Anche perché Si trova a Roma Nella capitale E lo sapete bene Che la scuola Forma La scuola non forma Solamente A livello scientifico La scuola forma Anche il carattere Delle persone Il ritorno Su questo piccolo Argomento Che è diventato Grandissimo Perché ad oggi Si sta parlando Di educazione Anche nel rispetto Di una donna Di un rapporto Levo la parola donna Di un rapporto Di una relazione E vi invito ancora Ad andare sul sito Di radioroma.it Chiedo l'aiuto Della regia Per trovare L'estratto Dove ho parlato Dei femminicidi Questo perché All'interno Di questo estratto Io ho dato La mia opinione E la scuola È fondamentale Fa parte anche Del titolo Basta femminicidi Partiamo dalle scuole La scuola romana La scuola italiana È fondamentale Per l'istruzione Dei ragazzi E queste due cose Sono correlate Quindi vi invito Nuovamente a guardare Questo estratto Dura veramente poco Ma secondo me Le parole Che sono state utilizzate Da me all'interno Non voglio essere spavaldo Di dire che sono Corrette Ma una cosa Posso dirvela Possono secondo me Incuriosire Possono incuriosire Perché il mio modo Di raccontare questa cosa La mia opinione Si avvicina molto All'opinione di molti Ascoltatori e telespettatori Del network Di Radio Roma Che spesso ci seguono E questa cosa Che le scuole Sono importanti Secondo me È fondamentale Buona Che il Visconti È uno tra i liceo Scientifici Top D'Italia In questo punto Però sarebbe bello Se cominciassimo Un po' A leggere articoli Dove Cominciamo a vedere Che ne so Il liceo Ha aperto Un'ora al giorno Per poter parlare Con i ragazzi Di questa cosa Per poter parlare Con i ragazzi Della violenza Per poter parlare Con i ragazzi Di rapporti Con le persone Dell'educazione Di come comportarsi Questo è fondamentale Però ci sta Ovviamente Cosa che non voglio mai Lasciare così In seconda parte È che la scuola Comunque Italiana Fa veramente Dei gran bei numeri Compresa l'università Ragazzi Noi abbiamo delle università Sia a Roma Che fuori Roma Meravigliose Meravigliose E sottolineo Meravigliose Escono fuori Dei personaggi Che a volte Ce li perdiamo anche Perché purtroppo Abbiamo parlato anche ieri Di stipendi Da dipendente Non dipendente Che sia Però non ci voglio Tornare sopra Purtroppo a volte Noi lasciamo veramente Andare alcuni Grandi personaggi Alcuni grandi menti Non ce la facciamo Non so perché Li mandiamo via Questo probabilmente Perché non riusciamo A rispettare un po' Le aspettative Che questi ragazzi hanno Voi considerate Che ci sono persone Che studiano Magari anche voi Avete studiato anni fa E veramente Sui libri Studi Studi parecchio Sui libri Mosca Anche tu sicuramente Hai suddato parecchio Sui libri Non perché Studiato Magari perché Scusate Ogni tanto parlo Anche con la Mosca Che ci viene a trovare Tutti quanti Hanno suddato Su questi libri Sdramatizziamo Ma fondamentalmente È bene ricordare Che le università Italiane Hanno veramente Un gran livello Di studenti E speriamo che poi Nessuno Se li possa perdere In questo modo Allora Vi dico solo questa cosa Anche oggi ci sarà un estratto Dedicato alla puntata Come ogni giorno Quando andiamo in diretta Da lunedì al venerdì Dalle 12 Sul canale 14 Di Radio Roma Television Creiamo poi degli estratti Sui social Vi invito tutti quanti Ad andare a dare una bella Sbirciata Sia i social Di Radio Roma Ci trovate su TikTok Ci trovate su Instagram Su Facebook I social Praticamente tutti LinkedIn Ci trovate ovunque Andate Seguite la radio E divulgate ovviamente Le informazioni Che a voi piacciono Quelle che sono un po' Più vicine Al vostro Metodo Alla vostra linea di pensiero Quindi è una cosa Che ci tengo ovviamente A dire a tutti Volevo chiedere a Matteo Se c'è la possibilità Di recuperare Così veloce live La storia che stavo Raccontando prima Del ragazzo Che ha preso 150.000 euro Di multe Per essere passato Con la zona ZTL E avere anche magari L'autovettura Se non ricordo male Senza assicurazione Eccolo qua È successo a Mantua Entrato 800 volte Questa non me la ricordavo 800 volte in ZTL Accumulato queste multe Per 150.000 euro Un ragazzo di 21 anni Gli hanno tolto la patente Lo hanno fermato Ben due volte La prima volta Era perché Non aveva l'assicurazione Gli hanno sequestrato La macchina Portato a casa La seconda volta L'hanno ripreso nuovamente Gli hanno proprio tolta Quando hanno fatto i controlli Si sono accorti Che gravava di 150.000 euro Di multe Verso il comune Una roba impressionante Allora Io chiudo qui Questa puntata Di punto di rottura Come al solito Vi do l'appuntamento A domani Stesso orario Dalle 12 Sul canale 14 Di Radio Roma Television Per quelli che sono arrivati Così borderline Stasera ci sarà la replica Non vi preoccupate Ogni giorno Alle 19 C'è la replica E poi il sabato La domenica Siamo un po' più libertini Matteo Cioè Siamo al momento discotecaro In seconda serata Ovviamente Vi aspettiamo Sempre qua Su Radio Roma Television Grazie a tutti Come al solito Grazie agli amici Che ci seguono Sui social Grazie a chi ci scrive E ovviamente Grazie a chi Domani Si ricorderà Di tornare qua Nello stesso orario Nello stesso posto A fare una bella Chiacchierata Insieme a me Io sono Rush E chiudo La puntata di oggi In questo modo Grazie ancora Alla regia Di Matteo Lupini E grazie soprattutto Matteo Per le tue perle Perché ogni tanto Escono delle perle Che possono comporre Una collana meravigliosa Ragazzi A domani Ciao Punto di rottura L'informazione Che spacca Con Rush